Sì, ciao ragazzi Benvenuti Fai la intro Fai la intro L'ho fatta Continuala tu la intro Ok, ciao ragazzi Anzi no È ancora una volta Ciao ragazzi Dai basta Bella a tutti ragazzi Ben ritro tanto Ah Manca solo Rizio comunque Ma io ero già sopra le scale Ma vaffanco Ma vai È partito No, ma io non mi ricordo No Gioco C'è l'unico gioco Con cui ha tryhardato potente Bastardo Nice Checkpoint Dai Marizio è rotto No That's really hurt Questa veramente terra Mi stavo incazzando Salta Ma io sono rotto Arrampicati 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 Salta Salta Risalta Vai qua Vai qua Vai qua Arrampicati Arrampicati Pezzo di me No ragazzi Io perdo Dai ce l'ho quasi Non si può Parla No Bastardo No 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 Allora Non ci siamo capiti Il primo Ma sei un Bastardo Dai ce l'ho arrivato No perché io ho sbagliato All'inizio Perché non mi ricordavo il tasto Fra io all'ultimo corso Sono scivolato e sono caduto E poi sei arrivato tu dall'angolino Come un bastardo No fra perché io all'inizio Mi pensavo che nel fare la corsa al muro Dove gli sono saltare e andava da solo Invece lui gli tremeva Non siamo su Ticampo 2 Sì Riccio non ti mancare che molti spacco il cu Sì va bene meno male sei convinto tu Va bene allora Adesso Riccio prepara il panino La Nutella con le proteine dentro Esatto Ma uno ha fatto 5 millisecondi Se era un hacker questo Probabilmente si Eh guardalo là il bastardo Sì ma Rizio mi fotte tutte le bibite Ma punto C'è rotto Ma io sono down Ma porca troppo Se lo dici pure da sola Ma l'ha detto il gioco Madonna Puttana leva Dai ma io sono all'inizio Oh goddio di quel porco Il dio porco cane Quel bastardo peloso di inizio Non ci credo Donna mo faccio la rampage Salta 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 Dai vai avanti Nooo e dai Vai 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 rampage No mamma e dai madonna Ma porca la puttana Ma mi diride pure il bastardo del presentatore Ma porca la puttana Dai Vi ho battuto di nuovo Ma perché non muove Dio stronzo E mi si apre la chat Ma vaffanculo Il dio in culo Tutto duro in culo Che scarsi Vi ho battuto di nuovo No Cristian è scarso Oh ma io sono caduto duemila volte Sali sali Ma non è manco rimbato Dov'è 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 Ma guarda un player a questa mappa ha fatto un millisecondo Eh si Ma chi Ma che cazzo Aspetta guarda 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 Il primo guarda il primo Zero 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 uno Cioè è impossibile fare i 6 millisecondi stavolta Ma anche fare i 50 secondi Aspetta Sei zitto Madonna Ah ora è arrivato Ora è arrivato Sì fra Ora è arrivato Dai zitto 3 minuti e 0-1 Non mi caccare il cazzo 3 minuti e 0-1 Dai zitto scrivi di dop dop Stai zitto tu Vabbè che se la facciamo nella vita reale E appunto ti sparo No ma nella vita reale Non possiamo zompare sui muri in realtà Beh io si Vabbè quello ho fatto di titanio Madonna santa se ne è cato Eh non proprio di titanio Ha fatto la normalissima Ma di titanio Di titanio quello ho comprato dai cinesi Rizio No E iniziamo bene Al pene Vai grande Andrea Rubami tutto Grande Ma come si fa? Coda Oh Rizio Sono nel tuo culo Dai ma Rizio Mi ruba le bibite Sali 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 Corri 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 Guarda vai 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 grande Io seguo Rizio Madonna ragazzi che hai fatto un po' Dai l'ho seguito nel vanilla Rizio Corri Come cazzo hai fatto? Come cazzo hai fatto? Io mi sto pagando Dai come? Ma po' Ma come? Porco Più indietro penso Tu sei più avanti di me Molto più indietro secondo me E infatti Sì ma non si può Salta salta Perché? Ok ci sono Vai vai Boom Si ho finito di nuovo Scarsi Ma che cazzo Scarsi Sei te scarsi proprio Salta 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 Vai grande No Vai Gira Ok 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 No non cadere Salta 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 Vola 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 Io sto lanciando Cos'è Al traguardo Guarda Ma è arrivato Ma sono arrivato due secondi in più di te Non mi caccarei i coq Ah ecco E io intanto sono primo Come al solito Perché? No Nei videogiochi Ma no nella vita reale Non è come al solito Tra io ti passo in tante altre cose Ad esempio mio padre è ancora a casa Il due è andato a prendere Sì Sì mi è andato a prendere il latte Vecato che il mio è tornato No no Sì sì invece No Il padre Il frato padre è incastrato nelle curse Drone A prendere il latte Infinito Come ho fatto? Quello è caduto Non sono caduto Sono Non sono caduto Rizzo di sono le calcagne Ma perché sto gioco è down? Porco dio down Ma perché non salta? Porca la troia Ma sei tu storto Cristian? Non salta! Non salta! Ma perché mi prende dentro ai muri? Veloce 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 Tre ali si mette sto gioco Per chiudere Vaffanculo Ah no non sono morto Salta 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 Ma cosa? Ma cosa? No No vabbè ma è tutto buggato Dai ma c'è Solo l'inizio perché Alla ps5 E dal bimbo viziato Non gli si bugga niente Arrivato Eh sì Che scarsi che siete mamma mia Corri Corri Ma stai zitto C'è la piazza Stai zitto Salta No 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 sei down Il gioco Salta 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 vai a destra Andiamo sull'assertà che voglio vedere come ti altro Ma perché? Ma come devo fare? Come devo fare? Io non ci voglio andare Come devo fare? Spieganne lo gioco di merda Facciamo quasi Cristian così ci arriva più difficilmente Eh? Quali cose devi fare? Facciamo cosa Cristian Ok? Ok Eccolo finalmente Finalmente il mio colore sinistro Che scarso Cristian Senti facciamo una ser tag così te lo metto nel culo il fucile a pompa Eh no La ser tag ti apriamo Sì va bene Ok Facciamo un altro va Eh sì Ok adesso tra i armi Anche io Sì ma c'è un problema Quei cazzi rossi pure se non li tocchi Hanno La magia del Natale Che ti fa diventare down Ma lui c'è la B6 E quindi vede i frame Dove Vede Riesce a leggere quanto spazio c'è Ma ci vuole tanto Ci vuole tanto per dire che sono più forte di voi Tanto? Sì Sì Vai 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 Prendi il turbo Turbo Oh Vai creda Vai Dai che non sono morto Dove Eh ma dove devo andare Ah ok di qua Di qua di qua di qua Vai prendi questo Cioè guardalo là Vai sul pisello rossa Sul pisello rossa Non ci chiedi Corri Ok Sì ma lotta Cioè guardalo Rizio ti sono alle calcagna No Il cutubo storto Ross Dov'è che mi vieni scusa? Ti sono alle calcagna Sì sì Cioè sono un po' lontano Ma sono ancora alle tue calcagna Che mangi? Tona prendi la coca cola Che ci aspira a Rizio E la coca cola di Fabio Quello Che però Eeeh Arrivato Ooooo Sto arrivando Per male Adesso Andrea Te lo becchi nel culo Ma se siamo arrivati uguali Non è vero Non è vero Sei arrivato a un paio Di secondi di ritardo Guarda sono secondi Io sono secondi Ma l'ho premuto Prima io il tasto Ma sei un gioco Di merda No Quella è la classifica Di tutto In questa classifica Andrà arrivato terzo Io primo ovviamente Ma andrò Continuiamo No no Continuiamo a tagliare No no E no Però la sbo Che ore sono? Ok No 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 Te la un po' Dove andare Ma andrò A coca cola di Fabio Salta Salta Schiva Salta Mi fanno mal i pollici E c'e 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 Het point Io ho platinato Mirror Edge Non posso Dai Ma che Fai finta che questo è Titanfall 2 Sono caduto Lo sapevo Titanfall 2 Cado sempre ma era madonna ciao ciao Andrea sei ciccione dai ma sei più avanti ma che cazzo io sono più avanti di voi guardalo ci sarà ma no no sei un bastardo ma perché non si è grappato dove cacchio siete eccolo chi è lui chi è quello che sta arrivando Andrea non ci credo salta Cristian bravo Cristian come ci si sente a sbagliare all'ultimo si fra il tato sono ancora io secondo è io primo ma stai zitto cioè fra questa fra questa qua la stessa non me ne frega la mia ciolla ma c'è quello che ha fatto due millisecondi anch'io sono in tassi 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 globale dov'è la classifica ah è finito ok adesso fra andiamo sull'assertang così facciamo il culo aspetta che ti dai il premio aprite le vostre casse vai io quale è il terzo oh c***o grazie a tutti Grazie a tutti.